Ciao a tutti, sesso, come usarlo per far innamorare profondamente un uomo? Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. E veniamo al tema. Dunque io ho detto spesso che, diciamo, la sessualità non serve per far innamorare un uomo. Non serve perché spesso gli uomini si innamorano desiderando di fare sesso e si disinnamorano un po' facendolo. Ora, come può invece una donna utilizzare il sesso per far innamorare un uomo? Allora, ci sono diversi sistemi. Intanto il sesso è un'ottima esca. Esca cosa vuol dire? Che serve per attirare un uomo, per interessarlo, per stimolarlo, diciamo così. Riesce a fare questo per quale motivo? Beh, per un motivo molto semplice, perché per pescare serve l'esca e l'amo. Facendo l'esca e l'amo, cioè per prendere un pesce serve l'esca e l'amo. Se tu metti solo l'esca, il pesce arriva, mangia, si ingrassa e se ne va. Se metti solo l'amo, il pesce non bocca neanche. Se metti esca e l'amo, il pesce abbocca e lo prendi, diciamo così. Lo stesso discorso per l'uomo. Per pescare l'uomo il sesso è un'ottima esca. Ma non è l'amo, diciamo. Il sesso lo attira. Quindi per attirarlo utilizza proprio stimoli sessuali, stimoli erotici, stimoli visivi. Ma anche nei tempi, diciamo così, del coronavirus, per dire, puoi utilizzare stimoli visivi sempre attraverso video, foto, insomma, attirare. Poi però, quando ci sarà poi l'utilizzo, come devi utilizzare questo sesso? Perché se, diciamo, lo utilizzi e non attiri, cioè ogni volta che fai sesso l'utilizzi innamora, come devi usarlo? Beh, qua vale un sistema che è intenso e infrequente. Cosa vuol dire intenso e infrequente? Vuol dire che nell'intenso intanto devi sapere sintonizzarti con le caratteristiche del maschio. Quindi anche per una donna vale che devi... È molto importante il pre-sesso, che potremmo dire un pre-pre-preliminare, diciamo così. Quindi stuzzicare in modo tale che l'eccitazione salga gradualmente e in modo tale che poi la sessualità verrà vissuta in modo più intenso. Quindi stimolare... Beh, dipende dove vi trovate, però se vi trovate fuori, all'esterno o all'interno, insomma, creare tutto un mix di cose che servono per attirarlo. Quindi dal, per dire, a una cena, stuzzicarlo già direttamente lì al ristorante, insomma, fare un po' di cose che possano, diciamo, predisporre, già fargli gustare il post-cena, già durante la cena, ad esempio. Ecco, questo è uno stimolo che è molto utile perché consente di poi rendere l'incontro sessuale più intenso. Deve avere poi la capacità nell'incontro sessuale di sintonizzarti sulle caratteristiche del maschio. È molto importante, una cosa che dà molta intensità al maschio, è fargli sentire che tu provi piacere. Ecco, questo uno dice, ma si può sempre fingere? Sì, però se accade naturalmente, diciamo così, è molto meglio. Quindi avere confidenza con il tuo corpo è molto importante e capacità di provare orgasmi, capacità di... Poi è ovvio che è sempre un'interazione a due, però diciamo che questo dà sicuramente una... Diciamo, questo dà sicuramente un piacere, un'intensità del piacere maggiore al maschio, all'uomo. Però poi deve essere... Quindi se tu hai creato bene tutta questa cosa qua, sei riuscita a sviluppare le sue fantasie, sei riuscita a mettere in atto quelle che sono le sue fantasie, sei riuscita a intensificare le sue fantasie, sei riuscita a stimolarlo prima, Bene, tutto questo poi servirà per l'atto vero e proprio, ma poi dopo deve essere infrequente, cioè devi sparire successivamente, che è quello che normalmente poi fanno i maschi, che spesso fanno i maschi, dopo il rapporto spariscono. Ecco, in questo caso devi sparire tu. Devi sparire tu in modo tale che lui inizi... Intanto a lui deve essere piaciuta la cosa e deve porsi dei dubbi, ma non gli sarà piaciuto, come mai adesso questo sparisce, perché succede questo? Ecco, quindi genererà tutta quella serie di dubbi, tutta quella serie di situazioni che lo attirerà. Lo attirerà e quindi che succede? Succede che sarà... Inizierà a investire su di te, investire risorse, investire energie, investire... investire... E questo lo porterà ad innamorarsi in modo molto profondo, in modo veramente profondo. È ovvio che investendo dovrà anche piano piano avere degli impegni, prendersi degli impegni con te. E in questo modo, diciamo, vai a mettere un altro tassello importante a quella che poi diventerà una storia. Se riesci anche a creare un'intimità con la persona, cioè non parlare soltanto di cose banali, ma farlo aprire a quelle che sono le sue emozioni più profonde, ecco lì che hai chiuso il cerchio. Hai chiuso il cerchio perché questa persona si sentirà veramente compresa e sentirà di amarti, sentirà di essere innamorata, sentirà... avrà proprio la percezione di essere coinvolta. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramaschi, iscriviti al canale e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!